In Europa ed in America ruota tutto intorno all'inflazione e alla politica monetaria delle banche centrali ma cosa fare sui mercati a questo punto comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Carta rossa sul petrolio quindi in questo caso la mia invece una view di medio termine anche in questo caso quindi sposo un po' l'analisi che ha fatto Nicola nonostante appunto abbiamo messo carte con colori differenti però appunto io sono dell'idea che il petrolio possa scendere nel breve quindi ti do subito i livelli operativi poi se vuoi argomento un attimo quindi entriamo da 87,05 dollari stop loss 89,15 target 82,50 quindi cerchiamo di avere un target un pochettino più ambizioso per quella che è la nostra strategia. Questo è il grafico che stiamo vedendo in buona sostanza c'è debolezza io sono convinto che ci possa da questo piccolo rimbalzo che abbiamo avuto nella giornata odierna è una buona opportunità per mettersi al ribasso io penso che quell'area di supporto disegnata in verde potrebbe anche non reggere quindi il trend mi sembra evidentemente ribassista in questa fase. Ti è piaciuta questa strategia? Bene iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie. Grazie. Grazie.